La storia di Massimo Tomeo è la storia di un imprenditore onesto che ha pagato per la sua onestà. Ci vuole riassumere questa vicenda? Lei è un imprenditore edile e ha svolto dei lavori nel 2011 per la messa in sicurezza di una scuola sul Mona. Sì, io nel 2011 sono stato contattato da degli ingegneri che mi conoscevano per la mia attività e fece dei preventivi a una società fin Cosman di Roma, Unati, che aveva vinto l'appalto con la provincia per ristrutturare queste scuole a sul Mona. Quindi ho fatto i preventivi e poi mi hanno dato il lavoro con un contratto di subappalto autorizzato dalla provincia e che mi garantiva, tengo a dire questa cosa, per i pagamenti, per la lavorazione e per tutto quanto. Comincio a fare questi lavori a settembre del 2011 e durante la lavorazione mi sono accorto che la ditta Ati con i suoi uomini facevano dei lavori in fondazione che erano, a mio avviso, assurdi, cioè che indebolivano la struttura secondo me. Allora dico ai tecnici che stavano sbagliando, probabilmente pensando che magari non si rendevano conto di quello che facevano. Questi a muso duro mi hanno detto, fai fatti i miei, quindi c'è non di andare. E io sono andato avanti a fare i miei lavori, non potendo più vedere cosa facevano, perché in qualche modo mi avevano pure messo un po' alla berlina. Nel novembre, chiaro che non li avrei lasciati fare, però io avevo bisogno in quel momento di completare, non potevo abbandonare il lavoro. Nel novembre 2011, mentre facevamo i lavori, arriva il geometra, il RUP, responsabile unico del progetto, che è un uomo pagato dalla provincia, che mi fa i complimenti per il mio lavoro. Mi fa i complimenti per il mio lavoro e io a quel punto approfitto per dirgli che i lavori in fondazione non erano ben eseguiti. Da quel momento ho avuto l'impresa conto, mi hanno creato un sacco di fastidi, mi creavano problemi. E lei non è stato pagato, non ha avuto ancora un centesimo. Non ho avuto un centesimo. Alla fine di questo percorso lungo, giudiziario, lei ha ottenuto due cose. Innanzitutto il riconoscimento del fatto che i lavori erano stati eseguiti dall'altra impresa in maniera non idonea e quindi la scuola non era a norma di legge. E poi ha ottenuto un decreto ingiuntivo. Quindi io ottengo due cose. La scuola viene in seguito sequestrata sull'ordine della magistratura perché le mie denunce erano reali. E io tengo a dire, è importante per me, per la mia acqua, che io ho denunciato prima i lavori, nei primi mesi del 2012, quindi subito dopo che avevo finito, che i lavori erano fatti bene, alla procura di Sulmona. Dopo invece, verso la fine dell'estate del 2012, denuncio anche il mancato pagamento perché avevo capito che erano una prassi, perché anche le altre imprese non erano state pagate. Dopodiché abbiamo fatto un decreto ingiuntivo e siamo riusciti ad avere una parte dei documenti, perché noi non avevamo nulla di firmato, perché io non avevo firmato e nulla mi avevano dato, all'infuori del contratto. Siamo riusciti ad avere una piccola documentazione che ci ha permesso di fare un decreto ingiuntivo e di alcuni giorni fa abbiamo avuto la provvisoria esecuzione finalmente per una parte dei soldi che dobbiamo avere. Che adesso sperate di ottenere? Che adesso speriamo di ottenere, ma siamo andati alla provincia, c'è un nuovo dirigente al quale abbiamo chiesto, bonariamente, di pagare senza farci fare altri atti, senza spendere ulteriori denari, adesso per noi e poi dopo per loro. E questo è niente da fare, tu vai avanti con i tuoi atti legali e poi vedremo quando ti paghiamo. Ecco, insomma, una situazione davvero difficile, lei mi ha detto che ha dovuto anche licenziare i suoi operai, insomma questa vicenda l'ha davvero pagata carissima, ha pagato la sua onestà? Sì, ho pagato la mia onestà, però non mi piace dire che, perché poi uno sembra che... Io ritengo che non si poteva tacere, perché i ragazzi stavano i ragazzi. Lei vuole rivolgere in questo momento un appello innanzitutto ai genitori di quei 320 ragazzi che sono gli studenti di quella scuola di Sulmona. Sì, mi rivolgo a loro per chiedergli di aiutarmi a buttarli giù, prima di tutto del corvo, perché sapeva tutto dai primi mesi del 2012 e nel 2011 i suoi uomini. Nel 2013 ho potuto dirglielo in faccia, potergli spiegare, niente da fare, hanno continuato a far lavorare quell'impresa e anche a pagarla. Gli ultimi soldi che non gli sono stati dati è perché sono stati bloccati dalla procura e i lavori sono stati sequestrati per l'intervento della procura. Quindi chiedo ai genitori di aiutarmi a buttarli giù e costituirsi parte civile nel processo che ci sarà contro questi signori, perché i figli rischiavano di rimanere sotto le macerie e oggi vanno a delle scuole spostate perché questi signori non hanno fatto il loro lavoro.